Caccio come un insetto, Tontison! Togli quei luridi tentacoli d'adosso al mio nipote! Manno Max! Ben, va tutto bene? Sì! Ehi, non hai la mia pistola? No, è la mia! Ne ho una cassa piena con me! Autenticazione vocale, prego! Io adoro i miei nipotini! Non so perché, ma quella macchina è come il mio tablet! Il che vuol dire che se gli spariamo l'acqua dovremmo essere in grado di abbatterla! Proprio così! Tieni, armati, sceriffo! Abbiamo un fuorilegge da colpire! Oh sì! È mezzogiorno di fuoco! Vapore Smite! Ti schiafferò in gatta buia, mostro di latta! Provaci pure, ragazzino! Meglio se prepari le nostre armi, piccolo capellone! Tre, due, uno... E tre! Acqua! Questo enorme macchinario moderno non è resistente all'acqua! Non lamentarti e aiutami a fare qualcosa! Massima potenza! Ti serve il grosso calibro! Hai sentito, piccoletto? Oh, forte e chiaro! Oh, questo è un bel guaio! Ora spingetelo verso la torre idrica! Facciamogli fare una doccia fredda! I controlli non rispondono! Usa il laser! Usa le tue magiche armi tecnologiche! Non posso! Le mie armi si sono rotte! Io ti disprezzo! Io ti disprezzo molto! No, 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 no! Il tablet si bagnerà! Presto! Una ciotola di riso! Riso? Riso? Sì! Ce l'abbiamo fatta, nonno! Abbiamo fatto vedere chi comanda in questa città! Sì! E cercate di non tornare! C'era anche Kevin! Ho lavorato con Smite per tutto il tempo! Ah, la voce mi era familiare! E poi mi sembrava strano che Smite mi chiamasse Tontison! La sconfitta brucia! Se non fosse stato per il tuo polipo a vapore, li avremmo abbattuti! No, la colpa è tua e delle tue orripilanti modifiche moderne! Se c'è una cosa che ho imparato in anni di attività malvage è che bisogna sempre avere in tasca un piano B! Forte! Schiacciamo quei perdenti! Attaccali coi piccioni esplosivi di cui mi parlavi! Ma certo! Tira quella leva a sinistra! Così voglio interferire con i miei macchinari, piccolo capellone! Cavoli! Vecchio pazzo con la testa svaporata! Adesso vi dimostrerò la potenza superiore del vapore! Ha detto vapore? Beh, sì, è quello che ho detto! È un macchinario incredibile! Vieni, William! Voglio una foto con questo genio! Finalmente! Qualcuno che apprenza! È meraviglioso! Signore, sarà in città la prossima settimana! Faremo un festival storico e vorremmo chiederle di fare una lezione sull'utilità del carbone e del vapore! Su serio? Ma sarebbe strabiliante! Arrivo, lor signori! Andiamo in gattabuia! Non vi preoccupate, amanti del vapore! Tornerò per il festival! A presto! Iuha! Siete stati dei veri cowboy, ragazzi! E tu sei stato un vero genio a usare l'acqua contro il calamaraggio, Nanno Max! Già! Voi due vi dovete ancora un tablet! E che succo tiene l'acqua contro il visita!